L'Elemora lo conosco da molti anni per il suo eccellente lavoro a Mediasi. Lo ha aiutato in un momento di grande difficoltà economica, di grande difficoltà come salute e sono orgoglioso di averlo fatto. E la persona minorenne nega di avere mai avuto né avance né tantomeno rapporti sessuali, e afferma di essersi presentata a tutti come 24enne fatto avvalorato da numerosissime testimonianze. Sono destituite di ogni fondamento le accuse a l'Elemora. E adesso parlo io. L'Elemora lo conosco L'Elemora lo conosco